Ciao a tutti, buon venerdì e direi anche buon inizio weekend. Allora, andiamo a vedere insieme cos'è accaduto ieri in casa da Limberti. C'è stata la live di Davide che portava il titolo Che Tempaccio, poi è stato cambiato in Moderatore Fantasma Devi Sparire, perché nel corso della live sono accadute delle cose appunto che riguardavano il Moderatore Fantasma, ma queste le vedremo dopo. In ogni caso, ovviamente, la live comincia con i saluti, a un certo punto si sentono le risate aggraziate di Chiara, un trillo argentino proprio, che se la senti di notte questa risata e sei da sola l'unica cosa che ti viene da fare è scappare. Comunque, dice che vuole far sentire una conversazione con una sua moderatrice, che a suo dire fa troppo ridere. E anche se Davide e Luciana declinano questa richiesta, insomma, non vogliono sentire questa conversazione, lei ovviamente fa di testa sua e la fa ascoltare. E praticamente in questo audio si sente lei che parla come se fosse posseduta. Avete presente i film horror, perché pare che a lei e a questa sua moderatrice piaccia il film horror, e lei si mette a parlare così, come se fosse posseduta. E si sente Davide che le dice che lo sta facendo cagare addosso. Lei se la ride ancora, poi si avvicina per vedere cosa hanno scritto gli utenti e i moderatori di questo fantastico scherzo. Dopodiché Luciana dice non riesce ad arrivare al fine settimana senza fare la creatina. Lei risponde, ho preso da te, la mela non cade lontano dall'albero. E Luciana dice, no cara, c'è anche chi concima il proprio. Nel frattempo Chiara se ne va e Davide riprende Luciana, dicendole che comunque Chiara stava scherzando e Luciana forse si è spinta un po' oltre. Cominciano a parlare di pesto senza aglio e con aglio. Pare, se siete interessati, che senza aglio si digerisce meglio. E Davide a un certo punto dice che Chiara in chat, al posto di scrivere mi piace tantissimo l'aglio, ha scritto mi piace tantissimo il C-A-S-Z-O. Sarà un lapsus freudiano, insomma. E poi dice che forse non ha sbagliato a scrivere. Probabilmente il marito la conosce, insomma. Luciana fa battutine particolari, che ne so, per esempio ad un ragazzo che pare, insomma, si era detto che scherzandoli sarebbe andata a trovarli, insomma, cose del genere. Lei dice ti ospito nel mio letto. Oppure ad un altro che diceva che stava per uscire dalla chat, dice rimani che ti faccio quattro carezze, non vuoi? Insomma, qualcuno scrive, fa come il Don Giovanni di Mozart, che diamanti ne aveva mille e tre, qualcosa del genere. E lei dice che è nata dopo il Don Giovanni, altrimenti anche lei avrebbe fatto parte di questa schiera, insomma, di amanti. Anche lei, insomma, si sarebbe probabilmente ritrovata a fare la cortigiana. Insomma, queste battutine un po' così, che a lei magari fanno ridere, che sono sicuramente battutine, lasciano il tempo che trovano, però che, insomma, possono anche essere usate per specularci sopra. Mettiamola così, insomma. Si lamenta che qualcuno ha bannato Leo, ancora questo Leo di mezzo, Davide dice che l'ha bannato lui, e Luciana dice che non si possono dare sti dolori. A questo punto, Davide, che già a inizio live, sembrava un po' scocciatello con Luciana, e si vede, insomma, che è insofferente, e le dice di smetterla, le dice basta. Luciana dice che non bisogna essere maleducati con la stessa persona, che quella persona la fa ridere, la fa divertire, e lei si dissocia. Davide le dice che è stato lui a divulgare il numero di Luciana, cioè questo Leo, e Luciana dice che si incavola, praticamente si incavola, perché non è così, cioè quella che sta dicendo non è la verità. La verità è che lei ha lasciato il suo numero, e chi era presente, praticamente, si è appropriato di questo numero, perché non si finisce a sentire la frase, perché Davide mette muto, e quando si riattiva l'audio, praticamente, si sente Luciana, che ancora dice che non è stato lui, cioè questo Leo Leo, e Davide e Chiara le dicono di smetterla. Nel frattempo, in chat, Chiara sponsorizza il nuovo canale di Davide, dove Davide dovrebbe fare le live, e dice che a mille iscritti, la sua più zelante moderatrice farà vedere le poppe. Lei ribatte che, a quel punto chiuderebbe internet, e Chiara dice che in tanti, che di non svilirsi, insomma, perché tanti lo vorrebbero, vorrebbero vedere queste tette, praticamente. E Luciana dice, ma che vuole fare questa popipopi? Riferito alla sua moderatrice. Poi chiede a Davide, cos'è popipopi? E lui fa popipopi, praticamente mimando vicino al naso, questo fare popipopi. Poi dice a Luciana, che praticamente l'ha corretto, e che popipopi non si fa sul naso, praticamente si fa sulle tette, e l'ha corretto, mimando il gesto non dicendolo. Però lui, praticamente rifà questa cosa che ha fatto Luciana. A questo punto, lui dice che si sta indignando, si alza e se ne va. E Chiara non perdi occasione e scrive in chat. Sì, amore, tu a me fai popipopi sul naso? Poi, a un certo punto, scrive che a 1500 iscritti al canale di Davide, un suo utente lo esce. Insomma, siamo sempre un po' su queste live, non proprio hot, ma insomma, diciamo scherzosamente hot. Mettiamola in questo modo. Comunque, lui intanto è tornato, poi viene anche Chiara, fa vedere il suo fantastico maglione di Winnie the Pooh, accarezza il viso del marito, gli tira la guancia, poi gli dà dei buffetti ancora sul viso, lo bacia ripetutamente, e sembra che lo baci contro la volontà di Davide, perché lui pare che si scansi un po', perlomeno a me ha dato questa impressione. comunque gli tira anche la coda e se ne va insomma tranquillamente, e io direi anche per questa live, il maritino lo abbiamo sistemato. Dopodiché entra colui che avrà il potere di far cambiare il titolo della live a Davide, cioè il moderatore fantasma. E da qui in poi succede il delirio. Perché? Perché innanzitutto Luciana chiede come mai c'è questo moderatore fantasma, lui gli spiega che un giorno andando su Instagram gli avevano mandato una richiesta o qualcosa del genere, lui ha cliccato sopra una cosa che gli avevano mandato, dopodiché è andato a fare le live e si è ritrovato questo moderatore fantasma. E Luciana gli chiede se non può scendere a patti con questa persona, nel senso, visto che non gli permette di fare liberamente le live, perché blocca, banna, sblocca e quant'altro, e nel frattempo si cambia i nick con pare, perché insomma non lo eleggiamo, con insulti, spammando anche gli indirizzi delle persone, dei vari moderatori e quant'altro, e quindi Luciana dice a Davide perché non cerca di mettersi d'accordo. E Davide le risponde perché lui si dovrebbe abbassare e scendere a patti o trovare appunto un qualche accordo perché è lui, cioè il moderatore fantasma che se ha gli attributi e le palle deve smetterla, insomma, deve lasciarlo stare. Secondo me non ha capito bene Davide come funziona la questione. È come se tu hai una persona che ti sta bullizzando, anzi è proprio così, tu vai da una persona che ti bullizza pesantemente da diverso tempo e gli dici ah, se hai gli attributi e le palle lasciami stare. Cioè quello ti dice scusa ma io faccio tanto per bullizzarti, mo se ho gli attributi e le palle, cioè ma... Comunque continua la discussione fra Davide e Luciana perché Luciana proprio vuole che si dia la possibilità appunto a questo moderatore fantasma di spiegarsi, di appunto fare un accordo. Ecco, io non so che tipo di accordo si potrebbe fare con un moderatore fantasma, ma con uno che sta lì proprio per disturbarti. Che ne so, disturbami il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ma lasciami in pace il martedì e il giovedì. Cioè non riesco a capire che tipo di accordo avrebbe in mente la signora Luciana. Però a quanto pare lei proprio ci crede in questa cosa e la propone, anche se tutti i moderatori le dicono che con questa persona non ci si può parlare, che questa persona ha detto le peggio cose su tutti, anche su sua nipote e sua figlia, ma lei insomma continua imperterrita. E cosa dice? Dice che per lei, a lei le hanno insegnato il perdono e quindi lei praticamente è disposta a perdonare tutti, anche quelli che secondo lei in un momento di rabbia possono dire determinate cose. Allora, qui io mi farei una grassa risata. E perché? Perché se alla signora Luciana hanno insegnato il perdono e vuole perdonare ad esempio antisettari perché ha parlato male della figlia e della nipote oppure le oleo perché le ha spammato il suo numero o ha fatto altre cose oppure il moderatore fantasma che ne ha dette di cotte e di crudi a quelli che dovrebbero essere non dico i suoi amici ma insomma persone abbastanza care come anche i moderatori insomma. Perché non perdona anche altre persone tipo Eva? Eva ha detto soltanto che la signora Luciana avrebbe detto che l'avrebbe voluta come figlia e questa cosa la signora Luciana che poi non è una cosa chissà che cosa ha detto ma questa cosa la signora Luciana se l'è legata al dito tanto da offendere pesantemente Eva. La stessa cosa dicasi è un pericolo che è un pericolo che è un pericolo perché ce l'ha tanto con questa persona che alla fine non è che ha fatto chissà che o ha detto chissà che però insomma non ce l'ha alla stessa maniera con chi ha detto per esempio che avrebbe gli sarebbe piaciuto ballare sulla tomba della nipote o anche con fate e voglio chiarire un concetto non che queste persone vogliano il perdono di Luciana o in qualche modo debbano essere perdonate assolutamente però se tu dici che ti hanno insegnato a perdonare che ti hanno insegnato ad amare le persone insomma tutte le persone e quant'altro questa cosa dovrebbe essere a tutti dovrebbe essere fatta a tutti non soltanto a persone che a lei fanno ridere che a lei fanno divertire che a lei insomma in qualche modo sono simpatiche perché allora questo che cos'è un perdono a convenienza non ho capito cioè o perdoniamo tutti o non perdoniamo nessuno e cioè io la penso in questa maniera una persona che le ha detto le peggio cose su sua figlia e sua nipote Luciana la perdonerebbe tranquillamente perché tanto in un momento di rabbia secondo lei certe cose possono uscire però ci sta insomma che si perdoni questa persona e a questo punto Davide veramente cioè se non gli escono i fumi dalle orecchie è probabilmente perché c'ha un po' di cerume perché altrimenti non si spiega perché insomma voglio dire è vero che ammuta molte volte la la live per non far ascoltare cosa dice Luciana però si trattiene anche abbastanza ecco ad un certo punto richiude nuovamente l'audio dice qualcosa a Luciana e indica evidentemente la camera dov'è Chiara Luciana si alza va da Chiara e si sente dire cos'hai ancora e Chiara dice che o ha preso o deve prendere le goccine non si capisce molto bene e Luciana le dice è colpa mia adesso Chiara le risponde di sì e le dice di stare fuori e lei Luciana torna alla sua postazione dicendo che si è messa in una bolgia infernale senza rendersene conto io direi che la bolgia infernale carissima Luciana la sta creando anche lei perché non dico che deve essere per forza d'accordo con sua figlia e suo genere ci sta che lei abbia un parere discordante per carità però magari certe cose come si suol dire come abbiamo detto tante volte discutetele in privato magari in privato i suoi cari fra virgolette le fanno capire dove lei sta sbagliando ed evitate di fare certe figure in live davanti a tutti insomma sempre che queste figure voi le vogliate evitare e non enfatizzare poi questo tutto dipende dipende da voi in ogni caso la live si conclude che si alza Davide e va dalla moglie che si sta sentendo male a detta di Davide e quindi questo era tutto più o meno insomma per spiegarvi passo per passo ci sarebbe voluta veramente un'ora perché i battibecchi sono stati veramente tanti in relazione a questo fantomatico patto tra il moderatore fantasma e Davide e niente quindi io a questo punto vi saluto vi auguro una buona giornata se volete lasciatevi un like se volete iscrivetevi al canale se volete lasciatemi un commento io vi abbraccio tutti e vi saluto ciao ciao